L'Avellino domenica affronterà la Virtus Francavilla per riscattare il risultato negativo ottenuto contro il Catania. Al tempo stesso la squadra di Braia cercherà di vendicare la sconfitta rimediata l'andata con il gruppo squadra all'epoca stravolto tra Covid e infortuni. La squadra pugliese ha cambiato allenatore la scorsa settimana. L'arrivo in panchina di Alberto Colombo al posto di Bruno Trocino ha scosso la squadra ottenendo subito un risultato positivo contro il Terramo dopo un filotto negativo durato nove partite dove sono stati conquistati sei sconfitte e tre pareggi. Intanto, in vista della gara contro l'Avellino, la Virtus Francavilla deve valutare le condizioni di Vasquez uscita anzitempo nella gara vinta contro il Terramo. La squadra pugliese, finora in 31 partite giocate, ha realizzato 30 reti subendone 39, una media di 0,97 gol realizzate e di 1,25 subiti. Il presidente del club, Antonio Magri, ha espresso soddisfazione per la vittoria ottenuta nell'ultima giornata. Il numero uno ha evidenziato come il cambio di allenatore abbia giocato al gruppo squadra che ha da subito mostrato entusiasmo con una prestazione diversa rispetto nell'ultima gara. La Virtus Francavilla arriva ad Avellino per continuare a migliorare le proprie prestazioni. Il club in questo momento si trova in un limba a quota 34 punti con sei punti di distacco dal quarto ultimo posto e cinque dalla zona playoff occupata dal Palermo a quota 39 punti che però ha due gare da recuperare.